Il Rangoni Motorsport parteciperà alla Clio Cup Italia che prenderà il via domenica 25 marzo 2012 sulla pista di Monza. Saranno sei piloti che vestiranno i colori del team bolognese, la maggior parte dei quali, molto giovani, e con una gran voglia di mettersi in mostra. I baby di casa Rangoni sono Salvatore Arcarese, già lo scorso anno protagonista di primo piano in alcune gare, ed il trio di 19 anni composto dagli italiani Lorenzo Nicoli e Simone Tempesta e dal creato Ivan Pulic, al suo esordio nel mondo delle quattro ruote. Accanto a loro saranno in pista Salvatore Tavano, pilota esperto e già vincitore nel campionato 500 Abarth con la Rangoni Motorsport e la colombiana Manuela Vasquez già nel 2011 con il team Emiliano. Il campione della scorsa edizione della Clio Cup, Oscar Nuges, sarà ancora portabandiere del team Rangoni, ma in questa stagione correrà nella Clio Cup Spagna, assieme a Salvatore Arcarese e Aldo Ponti. Un bel trio di driver che nella scorsa stagione, assieme a Rangoni Motorsport, hanno ottenuto importanti risultati. Le Clio bianco-rosse saranno poi in gara, anche nel campionato europeo di categoria, con un trio di piloti che promette Sintille e composto da Oscar Nuges, Salvatore Arcarese e Manuela Vasquez. Probabile che anche Simone Di Luca si aggreghi al gruppo che così sarebbe veramente in grado di lottare, con più elementi per un posto sul podio nelle varie gare. Il team Petroniano sta anche lavorando per allestire un paio di vetture al fine di partecipare alla Ginetta Cup 2012. Per quanto riguarda il campionato internazionale Superstar International Serie, la Rangoni Motorsport sta affrontando un piano di sviluppo e test che la vedrà partecipare ad alcune corse in questa stagione agonistica al fine di trovare competitività e continuità in vista del 2013. Grazie a tutti.